Dal punto di vista normativo non c'è ancora una chiara normativa che permette l'installazione di compostiere, di piccole comunità che offra sicurezza dell'autorizzazione, ammesso che ce ne voglia, perché se sono piccole non c'è bisogno dell'autorizzazione, se sono un po' più grandi ci sarebbe bisogno dell'autorizzazione, però perché si dice ci sarebbe? Perché non c'è una legislazione ancora sufficientemente chiara, credo che sia in corso una preparazione di normative ad hoc, però ancora non sono state emesse.